La guardia costiera filippina è intervenuta in soccorso di un traghetto passeggeri denominato Esperanza Star, su cui è scoppiato un incendio. A bordo della nave in fiamme c'erano 120 persone, 65 passeggeri e 55 membri dell'equipaggio, che sono state tutte tratte in salvo. L'incendio è divampato all'alba quando il traghetto ha lasciato la provincia di Sikifo, e si trovava a largo dell'isola di Bohol, collocata al centro dell'arcipelago, nel gruppo delle Visayas. Le fiamme hanno imperversato per più di 5 ore.